E dentro anche Birindelli, allora ci siamo, tutto pronto, si aprono le gabbie, partiti, cavalli della terza corsa del pomeriggio, subito veloce come consuetudine Raddad si porta al comando nei confronti di Birindelli con la giuba bianca e il cap viola poi in terza posizione, l'altra giuba bianca è quella della femmina di tre anni Farouja che ha in scia Bull de Noel, poi il favorito è allora Dai che si sistema in fondo al gruppo, di dentro invece galoppano dalla seconda alla terza alla quarta posizione Private Equity con ancora Lethal Blonde, Clean Sweep soprattutto e Lomitas Gold ben appostato al centro del gruppo, si va così con i cavalli che hanno affrontato la racchetta, adesso si sono immessi nel tracciato principale sempre Raddad con il suo passo deciso, adesso sono quattro le lunghezze di margine rispetto a Private Equity, in terza posizione galoppa Birindelli che si lascia in quarta posizione con la giuba blu, Lomitas Gold, l'altra giuba blu, poi c'è Farouja che galoppa per corsie più larghe, ancora le sue spalle troviamo Bull de Noel, all'interno c'è Lethal Blonde in fondo a tutti, favorito e allora Dai in mezzo al gruppo invece Clean Sweep, quando siamo a metà curva nulla che si è cambiato, sempre Raddad in vantaggio nei confronti Private Equity che ha rifatto tutto lo steccato, si è portato in seconda posizione, in terza galoppa Birindelli, dietro a questi un terzetto formato da Clean Sweep, Lomitas Gold, Farouja, poi Lethal Blonde ed ancora alle loro spalle e allora Dai, siamo addirittura ad arrivo, Raddad che ha impresso la prima accelerazione alla corsa, Birindelli e Clean Sweep che si presentano ai suoi fianchi, ancora più all'esterno ci sono Farouja, poi Absolute Silence in questo momento e allora Dai non sembra essere incisivo, quando siamo a 400 dal traguardo, Birindelli rompe gli indugi e passa in vantaggio nei confronti di Bull de Noel, è cominciata la cavalcata anche di allora Dai, all'interno c'è Lomitas Gold con Bull de Noel in leggero vantaggio nei confronti di Lomitas Gold, Birindelli, Bull de Noel che è netta in vantaggio, ci prova all'interno Lomitas Gold ma nel tratto conclusivo, Bull de Noel vince bene nei confronti di Birindelli e allora Dai e anche Lomitas Gold tutti molto vicini. Vince Bull de Noel, numero 4 dello schieramento, la figlia di Anoden che conquista così la vittoria numero 7 in carriera in sella, Tore Sulas in sostituzione di Cristian Di Napoli, training di Marco Mercalli, colori della scuderia Dei Velo, vince il numero 4 dello schieramento nei confronti, vediamo un po', 6 Birindelli sicuramente, per il terzo sono veramente vicini, Lomitas Gold ed allora Dai servirà il giudice d'arrivo di rimare la controversia, però diciamo intanto i primi due, 4 o 6, per fotografia tra 7 e 2 per il terzo posto, da Capanelle per la terza è tutto. Grazie. 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 Grazie.